Benvenuti su Gossip Diva, il vostro punto di riferimento per tutte le ultime novità e scandali dal mondo delle celebrità. È stata una notte molto difficile per Rosalinda Cannavò e Andrea, che stanno vivendo le sfide dei primi giorni da neogenitori con la piccola Camilla. La giovane mamma ha recentemente condiviso un aggiornamento molto personale e toccante, descrivendo la fatica e l'impotenza provate nel vedere la loro neonata soffrire a causa delle coliche. Nonostante abbiano provato tutto, dai massaggi alle gocce specifiche per alleviare il dolore, la piccola Camilla continua a piangere disperata, portando una grande preoccupazione sia a Rosalinda che ad Andrea, che si sono sentiti smarriti di fronte al dolore della loro bambina. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessun aggiornamento e lasciate un commento con la vostra opinione, ci interessa sapere cosa ne pensate. Rosalinda ha spiegato che Camilla viene alimentata sia con latte materno che con latte artificiale, cercando di capire quale sia la causa di questi dolori lancinanti, ma purtroppo le coliche non sembrano voler dare tregua. Tra pianti inconsolabili e notti insonni, Rosalinda e Andrea stanno cercando di affrontare questa difficile fase con il sorriso, confidando che si tratti solo di un problema temporaneo, tipico dei primi mesi di vita. Nonostante le difficoltà, la coppia mantiene una visione positiva del futuro, convinta che presto tutto tornerà alla normalità e la loro piccola riuscirà finalmente a trovare sollievo. Nel frattempo, i fan di Rosalinda e Andrea non hanno fatto mancare il loro sostegno. Nei commenti, oltre a parole di conforto, sono arrivati tantissimi consigli da altri genitori che hanno affrontato la stessa situazione. La coppia è grata per tutto l'affetto ricevuto e si sente supportata dalla loro community di follower, che continua a seguire con amore e curiosità i primi passi di questa meravigliosa famiglia. Restate sintonizzati per ghili aggiornamenti su come Rosalinda e Andrea stanno vivendo questi intensi primi giorni da genitori.